Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della Puntura Mi rendo conto non ti so più rinunciare Ma perché rinunciare? Perché non c'è stata ragione? Benvenuta alla nuova puntata, abbiamo ospite una cantatrice, Roberta Tondelli Questa è la prima domanda che ci viene più spontanea Se dovessi descrivere, per chi non ti conosce, ma tanti ti conoscono Come la descrivesti, Roberta, oggi? Una eterna sognatrice appassionata Sempre, sempre per sempre, senza età, senza distinzione d'età Come ero da piccola così sono ancora oggi Forse anche un po' questo mi salva Vedere ancora un mondo, una parte di un mondo fatato Ecco, quindi che mi porta a fare quello che faccio Ecco, questo mestiere E a continuare ad essere in questo mondo meraviglioso che è la musica Questo mondo, parlando appunto di sogni Il sogno del nuovo singolo Che in realtà non si intitola sogni Non ti so rinunciare L'ho pronunciato bene E a questo punto, come nasce questo brano? Da cosa tra ispirazione e... Allora, questo brano in realtà Non ti so rinunciare è una cover Anche se quasi tutti pensano sia un mio inedito In realtà è una cover degli anni 90 Faccio una piccola premessa Che questo lavoro discografico È un po' tutto ambientato negli anni 90 Nel senso che le canzoni, sia quelle inedite Che, diciamo, le cover Sono degli anni 90 Quindi sono state scritte anche gli inediti negli anni 90 E oggi li ho rimessi, insomma Me li hanno assegnati oggi Ma sono stati scritti negli anni 90 E c'è stata una ricerca dei tre brani Delle tre cover Di anni 90 E questo non ti so rinunciare È un brano del grandissimo Ciro Sebastianelli Un cantautore napoletano Colui che ha portato anche Marta Marta al Festival Bar È stata a Sanremo con Il buio e tu Insomma, ha fatto un gran bel percorso E mi andava di omaggiarlo Perché oggi non c'è più E mi andava di omaggiarlo come artista E tra le sue canzoni Ho scelto questa perché è comunque un messaggio di speranza È un brano che ovviamente da quello che viene fuori Si capisce che parla di una storia finita Ma non di un amore finito Finisce la storia ma non l'amore Ci insegna questo Che può succedere anche questo E quindi lui dice Io non ti so rinunciare Riproviamoci Resta poi questo sospeso in questa poesia Dove rispetto ai testi di oggi Lascia questa speranza ecco Di poterci poi riprovare E anche se ha cercato la sua donna in altre storie Alla fine non ci è mai riuscito Quindi cerca di riconquistarla Ecco È stato poi riarrangiato da Mauro Spenillo Mi ha arrangiatore oramai da tantissimi anni E me l'ha praticamente conosciuto addosso Come un vestito E siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto E a questo punto Questo è un disco che anticipa un altro sogno importante Che è quello della realizzazione di un disco Un disco completo con undici brani Allora sì Questo sì Questo è un singolo Il primo singolo del disco In realtà io Proprio ieri ho ritirato il vinile Eccolo qui Lo metto qui Contiene undici tracce E il brano Vabbè scusami Il titolo dell'album è Tutta vita affacciata all'amore E ho preso questo titolo Dall'interno di un brano Che è in questo album Un altro brano cover Di Pietra Montecorvino Che è Murì Il titolo Quindi all'interno di questa canzone C'è questa frase Tutta vita affacciata all'amore Mi rispecchia molto Perché io credo che l'amore Comunque sia bello Nel senso si rifà al bello E quindi tutta la vita Cerco io E spero che tutti siano affacciati al bello Che cerchino di guardare Più il lato bello di questa vita Di questo mondo E di rifarsi poi a quello Quindi di cercare anche Di fare ognuno la propria parte Di bellezza in questo mondo E sono 11 tracce In realtà sono 5 nuove Tra inediti e cover E le altre sono tutti singoli Che io ho fatto uscire Dalla pandemia ad oggi Praticamente Prima di questo lavoro Però non volevo lasciarli così Da soli In giro Come piccoli orfanelli In giro per il web E li ho racchiusi In questo album fisico E ci tengo a precisare Vabbè dal 12 di gennaio Saranno disponibili su Amazon E sul mio sito ufficiale www.robertatondelli.com E ho voluto All'interno Questo è il vinile Ma all'interno C'è un libro fotografico Con anche i musicisti Insomma i testi E tutti i musicisti Che hanno tonato In questo album E poi ho voluto Anche inserire Un cd Perché insomma Laddove ci fosse Chi non ha Il giradischi Per poter ascoltare Il vinile Il vinile è comunque Un cimelio Quindi va messo lì Ecco Si può tranquillamente Sfruttare poi Il cd In macchina A casa Laddove ci fossero ancora Io ho tenuto fede Alla mia anima Vintage Quindi so che oggi Vanno tanto le chiavette Va tanto lo streaming Però Un prodotto fisico L'odore Un po' come i libri No? Era quello che desideravo Ci sono riuscita Insomma questa volta Anche con il vinile La prima volta Nel 2017 Solo con il cd E quindi sono Sono molto contenta Non vedo l'ora Di iniziare a vedere Il riscontro Su questo lavoro Insomma quanti Quanti lo porteranno Con sé Nelle loro case Nella realizzazione Dei tuoi brani A questo punto Quanto è Influente Influenza Il tuo mondo Che stai vivendo Perché il tuo mondo Parliamo di Napoli Per il tifoso a Napoli Quanto effettivamente Dà Quell'influenza Che poi Hai modificato Adattato Alle tue caratteristiche Ed hai portato Nel mondo Moderno Perché La musica napoletana Il suo cliché È standard Però Si è evoluto Nel tempo Allora Sì Si è Mi sono Diciamo Si è evoluto Il mondo Napoletano Soprattutto Io cerco Sempre di riportare Anche nei miei live Al di là delle mie canzoni Dei miei lavori discografici Io cerco comunque Di portare anche La nostra Napoli Quindi i classici napoletani Rivisitati sicuramente In chiave moderna Senza però Snaturarli Mantenendo sempre Quel rispetto Che meritano E Napoli Napoli fa parte di me Tanto che Le mie scelte Cadono sempre Su cantautori Quando si tratta di cover Su cantautori napoletani Come in questo caso Pietra Montecorvino Ciro Sebastianelli E c'è anche Fabio Concato In realtà c'è anche Un brano di Fabio Concato E l'ho scelto Perché è canzone di Laura Ed è una canzone Scritta da Pino Daniele Che Pino Daniele Scorre nelle mie Viene un po' In tutto Soprattutto in quella Degli artisti napoletani E quindi C'è comunque Un collegamento A Napoli Con Fabio Concato E questa canzone E quindi Mi piace sempre Riportare La lingua napoletana Nelle mie canzoni Nelle canzoni Insomma Che mi propongono Io non sono una cantotrice Tengo a precisarlo Ancora Non lo sono Però Credo che La lingua napoletana Sia Comunque La lingua universale Quando è fatta bene Una canzone Quando un disco È fatto bene Il mio stile È comunque Uno stile Molti dicono E sono contenta Quando mi dicono Che è uno stile Raffinato È ancora Poi più bello C'è ancora Più soddisfazione Quindi Napoli È comunque Una musa Sempre per sempre Tanto che Ho deciso appunto Di la copertina Da uno dei nostri Magnifici Castelli Che si vede Insomma Questo panorama Di Napoli Perché Insomma Napoli Ha questa bellezza Così naturale Quando la sfruttiamo Per le cose belle È sempre Una cosa positiva Invece Qual è la sensazione L'emozione Che provi Quando sali sul palco In realtà Quando sali sul palco Inizialmente Qualche tuo collega Dice Ho paura Poi pensa A chi me lo fa fare Oppure Mi so scordato Poi non Non indovino nulla Però Qual è la sensazione Che proprio Quando ti si apre La quarta plasea Poi parte la prima nota Nonostante che sei concentrata Senti quell'energia Che sale dal palco Perché è buio Però senti Quell'onda Che ti attravolge E tu La rimetti A loro Con la tua canzone Qual è Esattamente È un'adrenalina È un rilascio Di adrenalina Pazzesco Perché davvero C'è un misto Di emozione Di tensione Perché sembra Comunque c'è qualcuno lì Che paga il biglietto Per vedere te E quindi Ti auguri sempre Che vada tutto bene Che tu non dimentichi Che i musicisti Siano a posto Insomma Quindi c'è quella Ma dura davvero Frazione di secondi Perché poi appena parte La prima nota E scatta comunque L'applauso Generoso del pubblico Perché è anche Quello di incoraggiamento E diventa poi Quel rapporto Che io adoro tanto Con il pubblico Quella interazione E da lì poi È tutto un crescendo Fino alla fine Che poi Ti fa dire Ne è valsa la pena Insomma Perché c'è Quell'attimo Che dice Non chi me lo ha fatto fare Perché assolutamente no Però c'è Quell'ansia Da prestazione Ecco Diciamo così Che fortunatamente Svanisce subito Quando c'è un pubblico Che partecipa Insomma Che è molto attivo E poi ovviamente C'è anche Il pubblico critico E io cerco sempre Di portare le critiche Nel lato positivo Quindi anche Quando mi trovo A parlare con loro Lo dico proprio Dico a me piace Se qualcuno mi dice Guarda questa cosa Piuttosto che così Mi sarebbe piaciuta così Ma sempre che siano Critiche costruttive Perché dietro ogni concerto Dietro ogni lavoro Discografico C'è un lavoro Che non si può neanche Immaginare E quindi È bello Quando Viene diciamo Apprezzato E non viene criticato In male Ecco Questo intendo E invece La sensazione Che hai citato Che parli con la gente Li guardi con quegli occhi Perché a volte Non più tanto Le parole Rescono a esprimere Il loro pensiero Ma i loro occhi Lucidi Comunque emozionati Che hai saputo Cogliere In quel momento Gli hai lasciato Quella sensazione Hanno dedicato Due ore a te Quel mondo È stato in quel momento Era il centro Della loro attenzione E alla fine Ti rendi conto Che quegli occhi Hanno dimostrato Che tu sei riuscito A dare Quella cosa Che loro Forse cercavano Forse non cercavano Ma l'hanno trovata In te Sì Io lo so Sempre Nelle interviste Nei concerti Che non è mai Nulla scontato Cioè La presenza del pubblico Non è mai una cosa certa Soprattutto poi In questi periodi E da dopo la pandemia Che c'è sempre Questa paura Un po' O comunque C'è anche Una questione economica Per cui io sono sempre grata Quando trovo La platea piena E Quando poi loro Dopo Perché mi piace poi Tratterermi dopo Fare delle foto Io adoro proprio Il rapporto umano Prima ancora Che quello Cioè non mi piace Stare Ecco sul piedistallo Perché io sono sul palco E loro Giù No Io adoro Adoro proprio interagire con loro È uno scambio di energie E di emozioni Continua Ad ogni concerto Ad ogni incontro Comunque sia E sì Leggo questo loro entusiasmo Che è proprio Come ti dicevo Uno scambio Perché loro Dicono a me Di aver regalato Delle emozioni Ma loro Con la loro presenza E il loro modo Di essere Poi pubblico Quindi Questo pubblico Presente Questo pubblico Che partecipa Attivamente È La stessa cosa Insomma È la stessa sensazione Che sentono loro Io l'avverto Da parte appunto Del pubblico Quindi Sarò sempre grata Ogni Ogni qualvolta Troverò delle persone Che poi portano Anche altre persone La volta successiva Quindi È davvero Una grande emozione Davvero Io dico Lo dico sempre La musica per me È una cura È una medicina Tutto quello che c'è Poi intorno alla musica Ecco anche quello Di cui stavamo parlando A questo punto Ricordiamo che hai fatto Nel 2022 Hai fatto uno spettacolo Napoli al Massimo Ricordando Massimo Troisi Qual è stata La sensazione Poi portare In scena Uno spettacolo Dedicato a un attore Che ha dato Comunque lustro E ha portato Al cinema Un qualcosa Di diverso Rispetto a tanti Altesi Allora Con Massimo Troisi Un po' come Con Pino Daniele C'è stato sempre Questo legame Pur non avendoli Mai conosciuti Però Massimo Troisi È stato sempre Per me Come una persona Di famiglia E quindi C'è sempre stato Nel mio percorso Nella mia vita E ho deciso Di dedicare A lui Questa tournée Tutta il 2022 Da ottobre 2022 Fino a luglio 2023 Perché Credo che Meriti di essere Sempre Costantemente Ricordato Quindi Napoli al massimo È nata È nato Proprio per Per far sentire Più vicino Massimo A tutte le persone Che non lo hanno Assolutamente Dimenticato Però Ci sono stati Grandi momenti Di emozione E In realtà Io La prima La prima tappa È stata proprio A San Giorgio A Cremano Dove In Villa Bruno C'è Questa Casa Di Massimo Troisi Che è uno Spazio Adibito Dal fratello A una sorta Non è un museo Loro non amano Chiamarlo museo E all'interno C'è proprio Una casa C'è proprio Tutto ciò Che apparteneva A Massimo Troisi Quindi io Da lì Sono voluta Partire Da questa Fonderia Di Villa Bruno Che è proprio Accanto Nella stessa Struttura E ci fu il pienone E furono molto contenti Di avere in omaggio Anche l'ingresso A questa visita L'ingresso per la visita A questa casa È come È come avere Un buon augurio Sempre Sempre con me Quindi mi ha portato Davvero fortuna Questa Questa tournée Questo portarlo Con me Anche perché poi Io mi sono fatta Fare anche questo Guardo Te lo prendo Perché Fai sempre Qui con me Questo tamburello Che avevo con me Sul palco È stata una bella emozione È stata una bella emozione Mi ha fatto piacere Inserire anche La sua voce Prima di un Di un brano Che sarebbe O sai come fa A core Cantata poi Da Pino Daniele Ma in realtà È una poesia È una canzone Scritta da lui Quindi ci fu questa sorpresa Ogni volta Per il pubblico Di sentire la sua voce E poi io che iniziavo A cantare la canzone E mi è piaciuto tanto farlo È una cosa che sentivo Nel mio cuore Per questo legame Che poi fondamentalmente Non c'è mai stata Una conoscenza Se non appunto Nel 2000 proprio Con il fratello Luigi Siamo rimasti molto legati Quindi lui ha sposato Questo mio Questa mia idea Ed è stato Molto bello Lo rifarei Altre cento volte Quindi mila volte Quindi è stato Davvero molto particolare E molto importante E a questo punto Nadio ti ringraziamo Per essere stato ospite Ci mancano Due cose fondamentali Dove poterti raggiungere E poter acquistare Poi il disco E i saluti finali Sì Allora il disco È dal 12 Disponibile Su Amazon E sul mio sito Ufficiale Robertatonnelli.com Questo è il disco Tutta vita Affacciata all'amora Con le 11 tracce All'interno di questo Vinile ci sarà Anche un cd Quindi hanno la possibilità Di avere tutte e due Le cose Ho voluto Mangiarle anche Con il cd Le mie pagine La mia pagina facebook Che Roberta Tonnelli Aria Con la Y Mentre Instagram Tonnelli Roberta E lì Saranno sempre aggiornati Sarete sempre aggiornati Sulle mie date Nel 19 gennaio Ci sarà la presentazione Del mio album Che terrò ad Agoramorelli In Napoli Al parcheggio proprio Morelli C'è questa struttura Meravigliosa Tutta in tupo Agoramorelli Luxury E terrò lì La presentazione Dove passeremo Qualche ora insieme Tra musica Ho fatto preparare Una cena buffet Come ringraziamento Per chi Sarà presente E poi Spero Quanto prima Perché ho voluto Concentrarmi su questo Inizialmente Quindi sono da settembre Al lavoro Con questo disco E dopodiché Partirà la tournée E quindi Troverete le date Sulle mie pagine Sicuramente Salute i finali E adesso Che cosa dire di più Credo di aver detto tutto Quindi Se volete Sulle mie pagine Continueremo Ad interagire Io parlo tanto Anche lì Vi ringrazio tantissimo Per questa ospitata Per questa bellissima Chiacchierata Spero di incontrarvi Di persona presto Un abbraccio a tutti E sempre buona musica Da Roberta Donnelli Studio 7 TV E Sport e Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Mi rendo conto Non ti so più rinunciare Ma perché rinunciare Perché Non c'è stata ragione E non c'è stata ragione